Finalmente si mangia! Abbiamo fatto tanti chilometri per venire a mangiare a Recco. Sì, ma cosa mangeremo stasera? A voi piace le focacce al formaggio? Sì, molto! Sì, che buona! Ha l'acquolina in bocca. È vero, ma ci sono anche le proprie alpesto. È vero, pure quelle sono buone. E pure quelle sono un piatto tradizionale di Recco. Ma non ci dimentichiamo delle focaccette al formaggio. Che buone! Però mangerei volentieri un piatto di cima alla Genovese. Wow, una buona calcia! Belin, che buona! Abbiamo pensato alla stessa cosa. Mi raccomando, venite presto! Ciao bambini di Stromboli!